Fiamme, fumo denso e code ieri pomeriggio sull'autostrada in direzione Genova poco prima del casello di Albissola. Prendere fuoco è stato rimorchio refrigerato di un camion probabilmente a seguito del surriscaldamento dei freni. L'autista, accortosi di quanto stava accadendo, si è fermato al lato della careggiata e ha sganciato la motrice mettendola in salvo. Le fiamme sono state poi domate non senza difficoltà dai vigili del fuoco e il traffico è rimasto bloccato per alcune ore con code che si sono formate fino a quando in serata non è stata riaperta al traffico la corsia di sorpasso. Per fortuna comunque non si sono registrati feriti.